Di là degli episodi singoli l'idea era quella di fare entro il mese di marzo un comitato metropolitano nel quale condividere un pacchetto di misure. Firenze chiede sicurezza, la prefettura fa sapere che la risposta in arrivo, le violente rapine avvenute in pieno centro hanno scosso la città. Altro episodio, la notte scorsa una giovane spagnola derubata in via Capponi da un uomo che per strapparle la borsa l'ha costretta a sedersi sul marciapiede afferrandola per i capelli. Palazzo Vecchio ha chiesto rinforzi alla ministra Lamorgese, almeno 80-100 unità. Il prefetto Valenti si dice fiducioso nell'arrivo di nuovi agenti che, afferma, rappresenterebbero un tassello della strategia che le istituzioni insieme stanno elaborando. La compartecipazione dell'associazione di categoria attraverso il progetto degli steward su cui stiamo lavorando. Ci sono misure che riguardano esclusivamente l'amministrazione comunale, quindi si parla dei tavolini, degli orari e di altre questioni che riguardano la cosiddetta movida. Il comune, spiega il sindaco Nardella, è pronto a sostenere chi vorrà mettere in strada più steward per controllare le aree esterne ai locali. La nostra idea è di finanziare il 50% della spesa che sosterranno gli esercenti. Da qui a marzo, aggiunge il primo cittadino, con la municipale lanceremo tre unità cinofile antidroga per il contrasto allo spaccio, non solo. Stiamo installando 60 nuove telecamere con un investimento di 350 mila euro che ci è venuto proprio dal governo. Dobbiamo andare avanti con questo mix di strumenti messi tutti insieme.